Allora vi dico come mai che mi sono qui a Riva, mi sono di origine veneta, tanti tanti anni fa mio papà e mia mamma, mi hanno fatto un giro in moto, avevano una gran bella moto, avevo un'aria in inglese mia mamma non era mai stata sul lago di Garda, mio papà un giorno ha detto vei che ti porto a fare un giro sul lago di Garda, sono partiti dalla provincia di Vicenza dall'altipiano Cimbri per capirsi, Luzerno, Lavarone, Folgaria e sono arrivati a Nago, sulla curva di Nago lì mia mamma è stata molto impressionata a vedere un panorama del genere era che ha detto a mio papà, Longino, perché mio papà si chiamava Longino, la mia piaceria veniva a vivare qua e mio papà gli ha detto, guarda, passerà qualche anno ma te l'assicuro che ti porto a vivare qua. È stato così che nel 1964 mio papà e mia mamma venivano a stare a Riva e di conseguenza anche a me sono arrivati a Riva. La mia origine è Cimbra, Cimbra vuol dire vuol dire delle altipiane di Lavarone, Luzerna e Folgaria. Lì si parla una lingua che è l'antico idioma tedesco è molto difficile, incomprensibile per uno che non lo sa, perché è un dialetto tedesco, non è un dialetto tedesco, la lingua originale tedesca del 1308. Ti dico una frase da sind i grenze grunz. In tedesco vorrebbe dire das ist ein schönes Gruß e vuol dire questo come bè, chalu.